Suoneranno Alessio Ciprietti, che eseguirà di Brahms i sei pezzi opera del 118, di Debussy, di Brouillard e Ondin, sono due e tre lundi al secondo libro, e di Liszt la sonata quasi fantasia dopo una lettura di Dante, dal secondo anno di Pellegrinaggio. Poi sentiremo Teodora Kapinkowska con Beethoven la sonata opera 53, Wallstein, e di Schumann gli studi sinfonici, opera 13. Dopo un breve intervallo sentiremo il terzo candidato, Daniele Martinelli, con Beethoven la sonata opera 109, di Liszt lo studio trascendentale Caccia Selvaggia, numero 12, studio trascendentale, e di Prokofiev la seconda sonata. Finirà il gruppo di questa finale, Edoardo Riganti Fulginei, con Chopin la seconda sonata opera 35, l'undicesimo studio di Debussy per gli arpeggi composti, e di Scriabin la sonata opera 23. Buon ascolto. Grazie. 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 grazie a tutti 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 vi do grazie a tutti 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 grazie a tutti